L'intelligenza artificiale spazzerà via tutti i lavori, compresi quelli creativi. Già vi cagate sotto, vero? Calma, niente panico. Forse le cose non stanno proprio così. In questo episodio di Hacking Creativity parleremo di computer che disegnano capolavori, che scrivono sceneggiature e articoli di giornale, che fanno le intro dei podcast, che sostituiscono addirittura il direttore creativo di un'agenzia pubblicitaria. Scenario da incubo? Se fossi in voi, cari umani, studierei da vicino il fenomeno, per capire se noi macchine possiamo essere per voi un aiuto o una minaccia. Spoiler alert, la seconda che ho detto. Io sono un sintetizzatore vocale, e quegli umani incapaci di Edoardo Scognamiglio e Federico Favò, muti, e siamo pronti ad accherare la creatività di Sergio Spaccavento. Direttore creativo, autore ed esperto in materia di creatività computazionale. Cioè sa già, a differenza vostra, che i computer sono qui e per voi saranno cazzi amari. Diciamo che fino a poco tempo fa, immagino, i computer erano programmati per eseguire dei compiti che in qualche modo noi o non vogliamo fare, o la macchina riesce a farli in maniera più elaborata, su scala, in maniera più veloce. Punto. Da un po' si inizia a parlare del fatto che magari queste intelligenze artificiali possono anche creare delle cose che sono appunto l'arte, la scrittura. Questa puntata ha un senso solo, cioè noi ci stiamo caccando sotto, cioè questo è il senso di questa puntata. Noi e i nostri ascoltatori vogliamo essere sicuri, uscendo da questa puntata, che abbiamo ancora una chance di avere questo lavoro tra qualche anno. Ecco, chiusa parentesi, idiota, ma insomma era per farti un po' capire. Incominciamo a fare degli esempi pratici, ok? C'è un sito che vi consiglio di vedere che si chiama botpoet.com dove devi capire, proprio col test Turing, indovinare se la poesia è stata scritta da un robot, quindi da un generatore di poesie, oppure da un umano. Scusa, scusa Sergio, ma chiaramente, almeno io sono già finito sulla pagina e ho cominciato a leggere un po' di cose. Io vado, secondo me no. Ok, ci ho preso. Sì, ti esce fuori una poesia, devi dire, leggendola l'ha fatta un computer, l'ha fatta un poeta. Esatto. Posso fare l'avvocato del diavolo su questo primo esempio? Vai. Cioè, la poesia spesso è un po' mettere, non dico parole a caso, no? Però, vabbè, Fede sta facendo, no vabbè, la sto banalizzando proprio per dire. Se c'è un signore della poesia là in alto, ti prego, perdonalo. Può essere più facile rispetto a altre cose per un computer fare la poesia. Hai detto una cosa interessante. La verità è che andando nell'antica Grecia, cioè nel, sembro, sembro Piero Angela, romanchi, però la verità è che nell'antica Grecia non c'era un concetto di creatività. Mi spiego meglio. C'è Platone nel Timeo diceva che il creatore divino, il demiurgo, che dovrebbe aver creato il mondo, in realtà non creò nulla di nuovo, ma andò a plasmare una materia che già esisteva. E manco lui era creativo, figurati noi. E quindi gli artisti, secondo questo concetto nell'antica Grecia, erano esclusivamente degli imitatori della natura. Cioè loro fotografavano, in realtà, andavano a copiare. Cioè chi era più bravo nella sua copia? Tranne, invece, quello che era considerato la poesia, che nella parola greca il poiein, lì dicevano che la poesia in realtà è una creazione di qualcosa che non c'è, perché va a suggerire delle situazioni o di un mondo che non è esistente. Senti, oltre a questo sito, in cui devi sgamare se la poesia è stata scritta da una macchina o un essere umano, tengono in mente altri esempi di questo tipo? C'è stato, per esempio, un'attività, conoscete benissimo, questo è lo SwiftKey. No, no. E ce l'avete su ogni telefono. Ogni telefono predice, in base ai messaggi che scrivi, Ah, ok. Consigliano le frasi. Ti predice, più o meno, quello che hai utilizzato di più, eccetera. E infatti c'è qualcun altro che ha creato lo SwiftSpear, come Shakespeare. E qua incomincia a diventare una cosa abbastanza interessante, perché si basa sull'archivio, sul come viene catalogato. Quindi è come se fosse una sorta di apprendimento culturale, così come avviene nell'uomo, sta istruendo e dando le basi della cultura. Cioè l'intelligenza artificiale si studia Shakespeare, no? È giusto? Corre. E poi gli dici, scrivi, scrivi, diciamo, qualcosa come se tu fossi Shakespeare e lo fai in maniera insgamabile. Esatto. Però questa cosa è abbastanza ovvia, se ci pensi. Sì, perché io ho una potenza di elaborazione molto alta in quanto supercomputer o computer qualsiasi. Quindi archivio velocemente, vado a scoprire quali sono le chiavi, i meccanismi, le ripetizioni, e vado a riportare, così come se fosse un deep fake. E questo avviene non solamente nella poesia o nella scrittura, avviene nella musica. C'è un software che si chiama Beethoven AI, cioè Artificial Intelligence, che ha, si è praticamente tutta la sua discografia, permettetemi di chiamarla così, tutte le opere di Beethoven sono state, e alla fine la musica è matematica, se ci pensate, è stata ristudiata, ricatalogata, e poi ci sono dei pezzi, che potete trovare su YouTube anche... Originali. Originali, come se le avesse scritte Beethoven. Ma anche, Fede, tu mi parlavi di Jay-Z, avevano fatto... Sì, guarda, infatti non so se... ...reppato anche. Sì, se su questo Sergio c'eri per caso incappato per sbaglio, però l'ho trovato, proprio per preparare in questa puntata, no? Ho trovato questo video su YouTube dove c'era Jay-Z che rappava sulle rime di Shakespeare, ed era chiaramente tutto fatto dall'intelligenza artificiale. Però sì, questa cosa delle canzoni è pazzesca. Cioè c'era un altro link che avevo trovato dove all'IA veniva data in pasto, che ne so, tutta la discografia di Rick Astley, e un pezzettino di canzone, e poi lui faceva il resto, no? Ed c'erano dei risultati pazzeschi, cioè veramente deliranti, ma anche molto interessanti. Certo, parlando sempre di musica, le cose diventano un pochino più complicate o più interessanti nel momento in cui c'è quello che si chiama l'improvvisazione jazz. Allora esiste un software. Ce l'hanno fatta? Sì, sì, esiste un software che si chiama GenJam, che invece real-time va a duettare con un musicista umano. Però anche lì, se volete, è un pochino più semplice, perché se l'ho archiviato, è un po' come la poesia. Ho uno stimolo, lì l'unico cambiamento è in real-time, la velocità di elaborazione del dato. Però, secondo me, siamo molto lontani da quello che invece è il concetto della creatività, cioè di quello che è proprio il creare come ex novo, ribaltando il pensiero e creando sorpresa e meraviglia, perché la creatività, a mio parere, è sempre un'attività innovativa di problem solving, che si basa sia sull'esperienza, ma anche sul pensiero laterale, cioè sul thinking out of the box. Quella cosa... Una macchina non avrebbe mai potuta pensare solo nel disegnino per risolvere quel quadrato, di uscire fuori. Eh, ma gli puoi insegnare a uscire dal box. Cioè, nel senso, ti dico questa cosa, no? Perché quando mi viene una buona idea, da un po', da quando abbiamo aperto questo... abbiamo lanciato questo podcast, cerco di fermarmi un attimo per dire... Vediamo un po' i passaggi che ho fatto per arrivarci, no? Che cosa è successo nella mia testa? Spesso riesco a ricostruire i passaggi. Ho pensato a questa cosa, mi sono ricordato di un articolo che avevo salvato, ho provato a ribaltarla. Per cui come l'ho fatto io questo processo, magari diviso in 10 step, 15, 100, perché non può farlo anche un'intelligenza artificiale domani? Allora, puoi farlo, hai ragione, puoi farlo sicuramente, però lì avremmo dei risultati, n risultati statisticamente parlando, corretti. Ok. Ma la maggior parte delle volte il pensiero creativo, innovativo, va contro la razionalità. Cioè, l'innovazione viene dato con lo sconvolgimento del pensiero status quo. viene da, cioè, l'amore, adesso non voglio diventare sentimentale. L'amore, per esempio, al di là, accanto alla creatività, e accanto poi vedremo, se avremo il tempo, all'umorismo, sono cose che la macchina fa veramente fatica a ricreare. Può emularle, può, se vuoi, capire alcune cose, ma siamo veramente lontani dal poterle rappresentare in maniera onesta dal punto di vista di una macchina. Sergio, una cosa, ho un po' l'impressione da vari esempi che ho visto online che utilizziamo l'intelligenza artificiale per ricreare degli oggetti in qualche modo finiti, no? L'opera d'arte, la canzone, il testo, eccetera. Ma non ci può essere anche un'intelligenza artificiale che ci aiuta a fare il nostro lavoro? Lavoro creativo, ovviamente, non fare i calcoli. Sicuramente il computer ci può aiutare nella ricerca, e quindi, perché per riuscire, pensate alla creatività di lavoro, parlo della pubblicità. C'è un brief, ok? Un brief dove vengono esposti gli obiettivi del cliente. Cavolo, in teoria dovresti informarti meglio sul settore merciologico, capire come nel momento storico qual è il posizionamento più corretto. Sono un sacco di dati. Io stesso cosa impazzisco sulle reference. Sì. La prima startup che esce, che mi dà un tool per le reference dei video, tipo, mi fai vedere tutti i video degli spot delle macchine negli Stati Uniti, di Bram, pagherei oro, insomma. No, è chiaro? Tra l'altro di quelle che hanno funzionato, è quello la domanda. Secondo un target specifico, bla bla bla, eccetera. Insomma, quindi sicuramente i big data ci possono aiutare per una ricerca veloce, e quindi, come vedi, di nuovo come il computer necessita una classificazione, un'archiviazione, ma soprattutto poi un manager umano che ti dice immediatamente, segui questa strada, questo è interessante per il tuo lavoro, è bene, è bene, è bene. Poi, se lasci fare al computer l'elaborazione iniziale della soluzione, ripeto, probabilmente rimarrà stabile nella media, lasciando quello che ha una percentuale di errore abbastanza basso. E quindi cosa significa? Appiattire un po' la soluzione, andare un po' sul sicuro, ma non avere dei picchi di riuscita particolare, perché le più grandi idee, se vuoi pubblicitare, anche in altri settori, sono state quelle che probabilmente su cui non ci avresti scommesso più di tanto, ma lì c'erano proprio delle intuizioni e anche un rischio. A tal proposito, nel 2015 c'è un esperimento fatto in Giappone dalla McKenna Erickson giapponese, dove hanno creato una sorta di direttore creativo robotico. Pare che hanno caricato al suo interno i migliori script di spot pubblicitari degli ultimi premiati, o comunque hanno funzionato, degli ultimi dieci anni. Poi cosa hanno fatto? Gli hanno dato un brief, cioè fare uno spot nuovo per un marchio, un brand che si chiama Clorets, che sono delle mentine che profumano l'alito velocemente, e quindi hanno creato una sorta di gara tra un direttore creativo umano e questo direttore creativo con l'intelligenza artificiale. Ognuno di loro ha creato uno spot diverso che hanno prodotto chiedendo alla gente di votare quello che piaceva di più. Allora, uno era assurdo, con un cane, con una giacca e cravatta che guardava l'orologio dopo aver preso la caramella e abbagliando volava nel cielo, completamente fuori di testa. E un altro invece era tutto molto giapponese, di uno che scriveva degli ideogrammi, sicuramente poi non era tutto in giapponese, non l'ho ben cattuto, però più o meno le immagini erano queste. Il pubblico, cioè l'uomo di strada, alla fine il vero target, ha scelto quello delle pennellate, degli ideogrammi, che in realtà era stato fatto da un direttore creativo umano. Quello più classico, diciamo, quello un pochettino meno rischioso. Ma la cosa più buffa invece è che facendo un focus group, un test invece sui creativi pubblicitari, quasi il 100% ha scelto quello del cane che volava nel cielo e abbagliava. Quindi avrebbero vinto a Cannes, diciamo, l'intelligenza artificiale avrebbe vinto a Cannes, ma il pubblico non avrebbe comprato le mentine, probabilmente. Sì, forse per una questione di deragliamento. Figa sta roba. Sì, guarda, c'era la... No, poi andiamo a chiudere, però... Sai che c'ho qua mia figlia qua sotto, non si vede l'inquadratura, che è veramente in silenzio, per cui potrebbe entrare da un momento all'altro. Ah, ok. No, dicevo, avevamo trovato questo sito tempo fa, che si chiama, credo, Will Robot Take My Job, una cosa del genere, e fondamentalmente tu metti la tua professione e capisci in quanta percentuale rischi di perdere il tuo lavoro a causa dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso, mentre parlavi, ne ho messi due, tre, quindi creative director, siamo tranquilli, per cui, Sergio, non ti preoccupare, che per un po' di anni ci siamo. Secondo te, invece, da qui a... non dico due anni, tre anni, cinque anni, ma da qui a trent'anni, 2050, probabilmente speriamo di esserci ancora. Secondo te, le cose come saranno per chi vive di creatività rispetto alle macchine? E poi chiudiamo. Allora, saranno sicuramente, perché io lo so, eh, ovviamente, saranno sicuramente migliorate, mi spiego. Cioè, io vedo sempre la tecnologia come un boost per l'uomo e non una soluzione all'alternativa, tranne se non c'è Terminator, fondamentalmente, perché alla fine, cioè, la calcolatrice mi aiuta a fare dei calcoli più veloci, però non è che non sappia fare di conto o sapere, conoscere un'addizione. Magari, grazie a tutti quelli lavori o meglio, quelle parti del lavoro un po' più lente verranno semplificate, velocizzate, così ho più tempo per dedicarmi invece a una materia, in questo caso, creativa. Mi spiego meglio, cioè, molte volte un brief può sembrare, il brief, cioè il tuo obiettivo, può sembrare complicato, difficile o altro, soprattutto nell'esecuzione. Cioè, cavolo, poi devo mettere a posto la presentazione, devo produrre un documento. Io lavoro sempre così, do più tempo possibile, 80% al pensiero e poi il 20% all'esecuzione. e non il 70% all'esecuzione e poi il 30%, cioè le prime idee che ti vengono a mettere così, ragioneresti come una macchina. La macchina ragiona con, pedissequamente, secondo una linea di mestiere e invece la creatività ha bisogno di maggiore profondità. Va bene, Sergio, sei stato super, super prezioso e quindi grazie mille e ci sentiamo presto. Grazie a voi, vi auguro una buona serata. Ma si è sentita mia figlia, no? Sì, un pochino. Come audio. Ciao Arianna. Ciao. Ciao Fede, papà è molto più creativo di te. Ciao Fede, papà è molto più creativo di te. Fermi, dove credete di andare? Ricordatevi di iscrivervi alla newsletter di questo podcast, Gli Appunti di Hacking Creativity. Trovate il link in descrizione, sui social e sul sito. Insomma, non avete scuse. Dai, forza, date una soddisfazione a sti due che tanto tra poco li spazzerò via. Ciao.